Perché sottoscrivere l'abbonamento alla nuova stagione del Teatro Verdi di Pordenone? Perché ci sono dei protagonisti della scena assolutamente imperdibili. Silvio Orlando sarà uno Shylock straordinario in una delle più importanti commedie di Shakespeare, Il mercante di Venezia. Poi ci sarà un divertentissimo Pierfrancesco Favino per la prima volta a Pordenone con un lavoro dal titolo Servo per due, tratto dal servo di due padroni di Arlecchino, con musiche dal vivo e un grandissimo allestimento scenografico. E poi ci sarà Lella Costa, ironica e impegnata come sempre su temi sociali, Inferite a morte, lo spettacolo è a firma di Serena Dandini. E poi ci sarà il ritorno in teatro di Claudio Bisio con una riscrittura dell'ultimo best seller di Michele Serra, Gisdraiati. E ancora Moniovadia, piuttosto che Franco Branciaroli, piuttosto che Alessandro Gasman, insomma un sacco di grandi protagonisti, assolutamente da non perdere.